Aperitivi, spettacoli, musica, percorsi alla scoperta delle produzioni enogastronomiche ed ancora iniziative culturali, un mix speciale per Arcovaleno d'estate che torna a colorare la stagione delle vacanze con un ricco calendario di eventi. La manifestazione promossa dalla regione toscana con la collaborazione della Nazione e di altre realtà territoriali aprirà il prossimo 20 giugno con un evento a Firenze per concludersi ad Arezzo il 23 giugno con un percorso enogastronomico legato ad arte e cultura nel caratteristico cerchio del Prato. L'importanza di Arcovaleno d'estate è soprattutto quella di rendere la complessità di quello che accade in Toscana, non solo nei grandi attrattori ma anche su tutti i territori, quindi manifestazioni legate alla musica, agli eventi folkloristici, manifestazioni legate al cibo, alla particolarità dei cibi toscani, alla lettura. È la complessità della Toscana che non è soltanto vedere dei luoghi, dei luoghi noti, ma è fare delle cose e fare delle cose che legano la storia anche alla contemporaneità. C'è una crescita di qualità e di spessore degli eventi, c'è un rapporto che si è consolidato tra l'azione di promozione della regione e la nazione, un quotidiano che ci racconta da oltre 160 anni, che è strettamente legato al territorio, che lo conosce in maniera minuta e puntuale e lo traccia e c'è in tutto questo credo il valore del racconto. L'arcobaliente dell'estate non è solo l'apertura dell'estate, è la stagione che fortunatamente da oggi, un po' in ritardo, sta partendo e spero che recupereremo presto i danni in termini di economia che purtroppo non abbiamo colto in questi ultimi due mesi. Ma il racconto che la nazione ha fatto fino ad oggi e si prepara a fare in maniera puntuale, strutturata anche con questa tornata, con questi eventi, è il ruolo vero della narrazione legata al turismo. Tra gli eventi musicali di Toscana Arcobaleno d'estate c'è il concerto degli Stadi a Forte dei Marmi il 21 giugno per festeggiare, con il ritmo della musica, l'arrivo della bella stagione. È un grosso impegno organizzativo ma sono sicuro che sarà una giornata, una serata soprattutto molto bella, al quale il paese si presta volentieri nell'ottica di aiutare, dare una mano nel discorso turistico generale. E poi sarà ancora a Camaiore a festeggiare la riapertura della storica bussola domani, il 22 giugno, con un evento organizzato in collaborazione con Radio 2, il cui programma è ancora top secret, ma si preannunciano nomi noti della musica italiana che suoneranno nella nuovissima arena sotto le stelle della città versiliese. Marco Baleno d'estate sarà anche l'occasione per uscire dai territori e dalle località turistiche più note per conoscere i piccoli borghi, i frazioni e quella toscana che ha voglia di farsi scoprire. I riscontri sono positivi perché da sette anni, sempre con un crescendo maggiore, riusciamo a organizzare una festa dell'estate cercando di coinvolgere più comuni possibili, luoghi a volte anche sconosciuti che vengono portati alla ribalta. Insomma, tante iniziative in programma per la grande festa dell'estate, con eventi che si susseguiranno di giorno e di notte nella suggestiva piazza del Duomo a Siena e il 21 giugno sarà organizzata la Notte Bianca. Ma questo è solo l'inizio di quella che si preannuncia per Arcobleno d'estate come un'edizione geniale dedicata a Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte.